Hi! Io sono Chiara e vivo a New York da dieci anni. Sono la fondatrice dell'agenzia viaggi New York City for All e del brand Chiari Lady Boss. Se sei arrivata fino a qua vuol dire che sei un amante degli Stati Uniti, stai cercando di cambiare vita o vorresti ottenere un trasferimento in America per piacere, lavoro o studio. Ti dico subito che sei nel posto giusto. Da molti anni ormai condivido consigli su come trasferirsi negli Stati Uniti d'America e visti per gli USA. Forse ti è capitato di vedere qualche video su YouTube dove ne parlo? Tra le domande frequenti che ricevo ci sono quelle riguardo ai visti per gli Stati Uniti d'America. Su internet si trovano tanti siti che danno informazioni a riguardo, non sempre sono aggiornati e prendere un appuntamento in ambasciata USA sta diventando sempre più difficile. Quindi io vorrei esserti utile, vorrei renderti questo percorso più semplice. Per rispondere a tutte queste esigenze ho deciso di collaborare con un'agenzia che si occupa appunto di visti, soprattutto visti per gli Stati Uniti d'America, presente a Roma da circa 15 anni. Abbiamo creato un ebook completo che possa guidare le persone alla richiesta di un visto non immigrant. Che cos'è un visto non immigrant? Il non immigrant serve per i trasferimenti temporanei non permanenti per lavoro, studio o piacere. Anche se nell'ebook verranno trattati i visti a 360 gradi. Ma ci concentreremo sui visti non immigrant. Troverai diverse sezioni dedicate ai documenti necessari, consigli e tips per i trasferimenti in USA. Richiedere un visto può essere un processo lungo e noioso. Ci sono tante persone che hanno trovato difficoltà nell'ottenere un visto perché online spesso e volentieri non ci sono informazioni chiare, utili, organizzate, in sequenza ed aggiornate. Nell'ebook, oltre alle informazioni ufficiali, abbiamo inserito consigli ed approfondimenti. Ad esempio come scrivere un resume, ovvero il curriculum europeo, siti per cercare lavoro negli Stati Uniti d'America, città americane dove si vive meglio, come funziona la sanità negli Stati Uniti, il contatto di un consulente per aprire attività di ristorazione. L'ebook è soddiviso per sezioni e macro categorie, turismo, studio e lavoro. Alla fine di alcune sezioni abbiamo inserito testimonianze di persone che hanno richiesto il visto. Ogni tipologia di visto è stata analizzata nel dettaglio. All'interno dell'ebook ci sono anche link diretti ai siti ufficiali e provvederemo ad aggiornare costantemente l'ebook per assicurarci che le informazioni siano sempre al passo. Presentiamo quindi un manuale completo per trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Lunedì 6 dicembre faremo un live per rispondere a tutte le domande. Rimani connessa per ricevere il link. Grazie mille, saluti da New York!